Il ricordo più forte, diciamo, il primo imbatto vero, a parte la conoscenza, è stato quello negli anni, nei primi anni dell'ottanta, quando noi costituimmo il Cinefotoclub, un'associazione dedicata agli appassionati della fotografia e della cinematografia. Ci condivideva un po' questa passione comune per le immagini e avemmo delle collaborazioni intense con Maria e anche col suo compagno, il professor Giuseppe Antonello Leone. La coinvolgemmo in quegli anni nella giuria delle rassegne che ogni anno noi organizzavamo come Cinefotoclub, cioè delle fotografie e cinematografie a passo ridotto. Mi ricordo che lei, nelle recensioni per i filmati che presentavano, che venivano da tutta Italia, era molto poetica. C'era un ragazzo che addirittura mi scrisse, dopo aver presentato la sua opera, disse, guarda, la recensione più bella di quel filmato è quella fatta da Maria Vadula. l'ho fotocopiata, la tengo con me. È un ricordo bellissimo di Montemurro e di questo membro della giuria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.